Buongiorno, buonasera, non perdo tempo a far polemiche. Ieri sera mia figlia mi ha chiesto, papà, ma perché quel signore in televisione ce l'ha con te, ti attacca e ti insulta? E ho detto, lascia stare, è Pasqua, si perdona. È una menzogna questa. Giuseppe, se ti stavo così antipatico, se ti facevo così schifo, potevi anche dirmelo in faccia. Il MES esiste dal 2012, non è stato istituito ieri, non è stato approvato la scorsa notte. Come falsamente è stato dichiarato da Matteo Salvini e Giorgia Meloni. Questo governo non lavora col favore delle tenebre. Giorgia Meloni Giorgia Meloni Giorgia Meloni Giorgia Meloni Giorgia Meloni Giorgia Meloni Giorgia Meloni